Ciao a tutti ragazzi, io sono Olly e io sono Davy e benvenuti in questo nuovo video Oggi reagiremo per la terza volta, a video spaventosi, un po' così, alcuni di solito lo sono alcuni nuovi Che ci hanno preparato i nostri genturi così, perché ovviamente se vogliamo noi fare questo video non avrebbe senso Però prima di iniziare a reagire a tutti questi video, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto la campanellina Per attivare le notifiche e alla fine, subito il video, mettete un bel like ed ora iniziamo! Aprivo il video Asso Hai le orecchie un po' storte Dio, se lo chiesa il collo Sì, è che sto trovando E poi ha cambiato posizione Mamma mia paura sì, venisse subito qua il fatto Cioè fanno un po' paura che gli animali con gli occhi così, è un po' strano Mi ha fatto paura, facciamo un po' ridere Però c'è la cosa che fa paura che gli animali, cioè quei cani, anche altri animali possono vedere cose che noi non possiamo vedere Quindi questa cosa certe, certe volte mi fio in paura, cioè mi fio in paura Io non c'erano queste cose sinceramente molto Io però ci credo Cioè non è che tu vuoi dire cani, fai sta scena Non è che vuoi dire così Ho capito però Secondo video Ecco già bene, guarda, iniziamo benissimo Un'esplorazione Perché l'esplorazione non le fai mai di giorno? Mi sembra di ammettere Ok, questo è un po' strano sinceramente Andiamo indietro Ma secondo me è vero perché questa creatura io ci credo anche Cioè non credo, Olimpia ma ti pare? Cioè io mi credo, ti pitturo tutto il bianco te Che per cui ci sei? Che poi lei scappava, chi era da solo? Stai parlando da solo Perché tu non ci credi Lo so Cioè io ci credo Cioè dimmi te come fai a farlo? Come fai a farlo? Fai Ti allunghi le braccia e i coi Non ma poi guarda Come fanno i film possono fare anche questo? Sì ma tipo che è tipo osso dietro questa parte Ho capito ma come fanno i film possono fare anche questo? Beh magari nei film questi casi sono film Io so come fanno nei film Ma questa cosa secondo me sono vera Tipo come Non lo so, ci credi solo Io adesso forse non ci credo Io ci credo Eh, vabbè Andiamo avanti Ma dove mi ha abito? Ecco Che bel luogo Ma non è una casa Scusate Ah è la tizia Ah, è la tizia Maddonna Cos'è? Vedi che però cambia anche Gira Allora Potrebbe essere la stessa ombra Ha i capelli lunghi E poi può essere una persona che fa Fermi E sei troppo in avanti Adesso guarda Eh ma guarda Sembra lei Ha capelli lunghi Lei li ha così E quella lì Le ha piatti Come i miei Potrebbe essere Potrebbe essere L'uomo di un'antipersione Però ci sembra essere L'uomo di un'antipersione Si sarebbe visto For Ok Pover dark web Ma non è dark Vedi che li trovi Segole Però quel cane Non mi piace Mamma che occhi Apo Vediamo Eh ma chi è il cartizio No ma sono due persone Non mi piace Ma cosa era? No No Mi hai già bruciato Mi hai già bruciato Potrebbe essere vero Però boh Non lo so Cioè Come hai detto Prima non è che Non è che per dire Calmi ti fai quella cosa Sì per carità No esatto Cioè boh Ma io comunque Sì succede che volte Lo ripeto la seconda volta Ma però c'è che non ancora Quegli anni non li sa Videro così Che non possiamo Se l'abbiamo capito L'hai detto Quattro volte Quattro volte Io te lo ripeto Per la seconda volta Non per la quarta Siamo lì con questo Potrebbe Cioè penso sia abbastanza vero Ma nel senso Ci sa che un cane Mi faccio così Secondo me Vabbè Se un mio cane Facessero una cosa del genere Mi preoccuperei un po' Cioè Ci penserei un attimo Tipo con la bambola Di non buttarla Però magari Visto che il cane Guarda sempre quel punto Non è che magari Dopo andava D'altra parte Magari vedere Che c'è un'entità Chiusa in quella bambola Quindi potesse anche bruciarla Ma se magari Il cane Andava a vedere Un altro punto Di adesso Vedere che però L'entità È possesso Cioè no Da casa Non sappiamo cosa vogliono Dire ma va bene Andiamo avanti Possiamo perdere Che magari Quell'entità della bambola Sia uscito Dal suo corpo Sia stai qui Niente Mario Ha un po' Un po' Le zambi Distanziate Dalla tua testa Eh Ah la porta Lì la luce E il gatto Ah ma è un gatto Che l'è Ah ma io mi No Cos'è Ma poterci un gatto Ma Si è aperto questo Ma aperta cosa Non ho capito Io non vedo niente Eh Qua arriva Ah è un'ombra Che potrebbe essere Il padrone Se potrebbe essere Così in casa Qualcuno in casa Esatto Arriva il gatto Che però i gatti Guardano E' un po' strano Ma quel gatto qua Fa un po' paura No però Dalla porta magari C'è un tizio dietro Che tira col filo Ma vabbè anche Ho capito Però si sarebbe visto Ma come non penso Ingrandisco Ora passiamo Al prossimo video Il sesto Ah no si sesto Tavola Ouija Già qui ho già capito E' un po' strana Quella tavola Ouija Ma non può fare lei Vai Vai Non può andare Lei sul vai E' la vita Che decide E' se vede Che spunta la mucca Ma No 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 Potrebbe esserci una persona Che va sopra il rumore Cioè non ci vuole un genio Eh sì Esatto Però Però far ridere Quando Quella Quella corsa Un po' urlo Poi mi hai detto La tavola Ouija Così Potrebbe essere vero Poi mi hai spazzito le cose Cioè non ci vuole un genio Sì lo so Però Vabbè Non sapevo mai Se tutto quello che vediamo è vero o no Magari è vero Magari no Sottimo video Vediamo Niente male Ma perché non c'è le orecchie Cioè non è molto Non è molto carino Cioè Ma se mi fa proprio paura Che ti dico Che l'abbiamo visto Proprio adesso Perché Seriamente No cioè Fa ridere Ma fa pure Perché proprio A me è capitata Sta cosa Ma Mi sarebbe un po' paura Ma hai sentito le orecchie Cioè è un po' strano Ma che animale è poi È un cervo È un cervo Ma senza orecchie È un cervo Ma un cervo C'è una licorna Non mi sembra Cioè guarda Mi sembra Cioè Fa un po' paura Di preghi Ma qui escono gli occhi Esatto Guarda questo Quanti fuori Va bene Diamo avanti Che è meglio Ecco Cioè Vedete Una stellina Una stellina Ma che faccio La stella in quel modo Ma va bene È fuori No Cos'è sta cosa X No Va bene Ma L'ho fatto L'ho fatto anche io Questa cosa qual è Mai fatta No Mai fatta Io lo facevo sul diario Di scuola Non mi ricordo cosa È già successo È ovvio che si muove È normale Non è che Sempre che è collegato Ora vi mostro Ora vi mostro che Però è quella cosa Della stella Che non è Facciamo la stella Come fa lui Ma fa tipo così Che non serve a niente La X in realtà Secondo me Però Non so se si nota Che si sposta Si 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 vede Ti ricordi già che quello Sì Sì No no Io l'avevo fatto dalla nonna Una volta Bello Te lo giro Lei Era le cose No Non ho video Questa è l'ultimo Forse Oddio C'è un senso Non lo so Vabbè No Giuro L'ho visto Ieri L'ho già visto Tipo Giuro Sei un serpente Aiuto Ah ma il gatto Dai Deve morire L'altro gatto Ah Io usavo lui Bello Mi piace questo video Carinissimo Sì È fatto diverso Non lo ricordo Questo video Quando l'avevo visto Però continuare Diciamo qualcos'altro Comunque No ma io forse Ne ho visto anche una Tipo che era Su una ringhiera C'era Era il gatto Di cosiera Ti giuro Fai parla Giu Ultimo Cosimo Forse c'è il decimo Sì 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 Immagino Wow Vediamo l'ultimo L'ultimo Let's go Ma che faccia Questo cane Butta No Non ho visto Io ti giuro Non ho capito Non ho visto All'inizio Non ho visto Ok Dai Sembrano Come si chiamano I griffins Com'è che si No Quello no I grimlo I grim I grim I grim I grimlo Com'è che si chiamano Gli può passare quelli Con le orecchie che aveva Sì Che dice calzini Ma sembrano Quei video Al contrario I will come be the new bugani Comunque questo video Al contrario Sicuro Guardate Il cane arriva No aspetta Questo è più veloce Cioè si vede proprio Che è E che è il contrario Fa partire E guarda Ma si vede Anche quando si alza Com'è C'è questa cosa Fa l'onda Di Veri 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 Perché sembra che il cane Il video vi sia piaciuto E che vi state divertiti Insieme a noi Abbiamo finito Di raggiungere A tutti i nostri video Non abbiamo lasciato niente Nemmeno uno Così Così boh Quindi Ciao ragazzi